Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Relativamente al mio video immediatamente precedente intitolato Lucifero, qualcuno, qualche blogger, mi ha voluto far notare che esso appariva, il mio video Lucifero appariva come mio 666esimo video e che quindi era come se fosse questo video un mio atto di omaggio a Lucifero. Allora, a parte il fatto che il web può testimoniare che io 15 o 20 giorni fa sono stato informato che mi stavo avvicinando al 666esimo video perché io neanche ci pensavo a questa faccenda e lo testimoniare il web, basta andare a vedere alcuni commenti, basta andarli a vedere. Se è necessario posso anche fare il nome tra qualche po' di tempo, posso anche fare il nome dei blogger che mi hanno informato e mi hanno scritto proprio con testuale parole. In arrivo 666 video, io non ci avrei fatto caso. A parte il fatto che io nel video Lucifero non ho mai parlato di Satana, ma sempre di Lucifero, che è una cosa un po' diversa. Vorrei però far notare a chi ha voluto biasimare questo video che su Lucifero si è voluto volontariamente eliminare tutto ciò che su tale mitologica figura dicono i Vangeli Gnostici. Alcuni blogger lo hanno evidenziato questo, alcuni blogger informati su ciò che è stato l'ognosticismo e quindi qua io intendo riprendere il discorso su Lucifero e il collegamento stretto che c'è tra Lucifero e la donna perché Lucifero fa parte della cosmogonia patriarcale esattamente come Totem e Tabù di Sigmund Freud. Con Totem e Tabù abbiamo alle basi della civiltà, che per Sigmund Freud è sempre stata patriarcale, alle basi abbiamo il parricidio. pensate un po' a voi quale concetto ha del padre la civiltà patriarcale perché alla base della civiltà che secondo Sigmund Freud è sempre stata patriarcale, non è mai esistito il matriarcato, alle basi di questa civiltà c'è un parricidio. Pensate un po' a voi il concetto che ha la civiltà patriarcale del padre, un parricidio, questo per quanto riguarda l'aspetto laico della questione, per quanto riguarda l'aspetto religioso della questione, il patriarcado ha alla sua base il mito della ribellione di Lucifero contro Dio. Lucifero va considerato come figlio di Dio, è una sua creatura, anche noi siamo figli di Dio, quindi Lucifero è figlio, anche figlio prediletto, figlio prediletto di Dio si ribella contro il padre e che fa il padre? Ecco la nascita dell'ideologia patriarcale, chi si ribella contro il padre, che ovviamente è un padre tirannico, brutale, viene condannato all'inferno e che valga come monito, che valga come monito per tutti, che contro l'autorità patriarcale non ci si deve andare. Ma poi è saltato fuori un fatto, un affatto curioso, che molti appunto mi hanno scritto, mi hanno detto che ma Lucifero sta alla base della lotta contro la Chiesa, ma questo chi lo dice? Lo dicono soltanto coloro che hanno preso una parte dei Vangeli, hanno detto che questi Vangeli sono quelli veri e hanno eliminato gli altri, ci sono tutti i Vangeli gnostici, ma c'è tutto il pensiero gnostico che parla di Lucifero come di una divinità benefica. E qual è l'alleanza con la donna? Che vedremo poi ai tempi della Santa Inquisizione con i processi alle streghe. Qual è l'alleanza con la donna? L'ho già spiegato nel precedente video, Lucifero, qual è l'alleanza? L'alleanza è che Lucifero diventa nell'Iden, nel giardino terrestre, diventa il serpente, il demonio tentatore che va a tentare la donna, ma Lucifero non va a tentare la donna, va da Eva per aiutarla a scuotersi dal gioco patriarcale e che ci sia un'alleanza tra Lucifero, l'angelo della luce, l'angelo ribelle l'angelo ribelle all'autorità patriarcale che ci sia un'alleanza fra Lucifero e la donna lo dimostra lo dimostrano gli infiniti roghi contro le streghe che si sono perpetuati dalla nascita del tribunale della Santa Inquisizione tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo fino a tutto il 1700 mi pare che anche nel tardo 1700 ci furono le famose streghe di Salem negli Stati Uniti che sono state la base di tante opere letterarie e anche di tanti film che cosa si faceva le streghe? chi erano le streghe? le streghe dovevano essere le donne molto belle e molto intelligenti molto belle e molto intelligenti che per questa loro bellezza e questa loro intelligenza venivano un pochettino paragonate ai gatti e sapete i gatti specialmente i gatti neri di cui nella notte si vedono gli occhi brillare nel buio perché ci fu un tempo in Europa che i gatti erano tutti spariti perché erano la rappresentazione del demonio proprio ci fu una vera e propria crociata contro i gatti la stessa cosa avvenne nei confronti di donne belle e intelligenti che mal sopportavano il gioco patriarcale che si rifugiavano nelle stamberghe nelle foreste e nelle foreste magari magari si dedicavano a quella che noi chiameremo oggi erboristeria cioè producevano dei medicinali in fin di conti la nostra farmacopea si basa proprio sulle streghe sui risultati delle streghe e queste venivano perseguitate venivano perseguitate e il tribunale della santa inquisizione aveva scocitato delle torture così raffinate che io credo che non siano state scocittate queste torture così raffinate neanche nei campi di concentramento del terzo laico e poi le obbligavano a confessare perché dopo queste torture si poteva confessare tutto e quello che confessavano veniva trascritto veniva trascritto nei libri dagli inquisitori e ovviamente che cosa quali erano le domande che venivano fatte a queste donne alle streghe le streghe la domanda era quella se avevano avuto rapporti rapporti con Lucifero se avevano pensate voi a che punto si erano arrivati se avevano avuto rapporti col maligno col maligno e queste erano costrette poi a dire sì come si faceva a dire no col fuoco con torture che duravano settimane mesi dicevano sì e quindi era scritto sì ha confessato ha confessato capito ha confessato se non confessavano le facevano confessare per forza e le mettevano sul rogo io ho risposto a qualche a qualche simpatico commentatore gli ho detto caro che 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 gli ho detto guarda che se io fossi stato un inquisitore o anche un grande inquisitore o un piccolo inquisitore le streghe non le avrei mandate sul rogo avrei cercato cercato di godere delle loro grazie ma magari cercando pure di far concorrenza a Lucifero facendogli vedere alle streghe che io magari migliore di Lucifero le streghe pensate alle streghe voi la prima colpa di cui le si accusava era di aver avuto rapporto carnale col demonio capito pensate voi pensate voi rapporto carnale col demonio pensate quale precipizio che c'è stato dal politeismo dall'antica Roma e dall'antica Grecia al monoteismo lo dico con rispetto perché Gesù non c'entra poveretto al monoteismo cristiano pensate voi che precipizio di barbarie e la chiamano civiltà capito la chiamano civiltà donne belle e intelligenti donne belle e intelligenti venivano mandate sul rogo perché erano obbligate a confessare che avevano avuto congiungimenti consorsi consorsi carnali con Lucifero cari amici le streghe le streghe ma che donne meravigliose che dovevano essere queste streghe per incutre tanto timore agli inquisitori grandi o piccoli che essi fossero va bene cari 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 amici questo video le streghe va un po' a completare il precedente video lucifero che vi prego di vedere per capire meglio questo stesso video grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie